Musica Ben trovati dalla redazione di Tele Bari e Radio Bari. In apertura parliamo del possibile trasferimento di alcuni uffici comunali nel complesso Agora di Via Fanelli. Sarà davvero la soluzione più conveniente? Ce ne parla Silvia Dipinto. Sono in via di definizione gli ultimi dettagli prima dell'accorpamento degli uffici tecnici del comune di Bari in una sede unica, il complesso Agora su Via Fanelli, individuato dopo una ricerca di mercato durata due anni. 660 mila euro il canone di affitto annuale per una struttura pronta da dividere probabilmente con alloggi per anziani e che ospiterà le ripartizioni urbanistica, lavori pubblici, mobilità e traffico, ambiente, patrimonio e programmazione economica. Prima del trasferimento però gli uffici tecnici dovranno verificare l'entità dei costi di adeguamento della struttura alle esigenze di palazzo di città, spese da contenere nel minimo indispensabile, come spiega Elio Sannicandro, assessore all'urbanistica. Abbiamo chiesto agli uffici di verificare se nella distribuzione degli spazi effettivamente possiamo allocare tutti i nostri operatori dipendenti, i funzionari in maniera soddisfacente o se è necessario fare qualche piccolo lavoro. Se fosse qualche piccolo lavoro va bene, ma se poi le spese li evitano dobbiamo quantomeno verificare se è opportuno o meno. Ma l'obiettivo della Giunta è una sede unica comunale da realizzare in project financing, tra via Brigata Regine e lungomare Vittorio Veneto. Questa sarà la soluzione definitiva per gli uffici comunali che abbiamo ipotizzato via Brigata Regina e lungomare attraverso quell'accordo di programma già approvato dal Consiglio Comunale un anno fa. E presentati oggi 8 nuovi autobus delle ferrovie Appolo Lucane e il rinnovamento del parco mezzi raggiunge così il 50%. Alessandra Bucci La Regione Puglia corre in direzione ostinate e contrarie investendo, nonostante i tagli, il suo modernamento della rete e miglioramento dei servizi. I pendolari conquistano un posto al centro delle politiche del trasporto. In quest'ottica si inserisce il nuovo piano di ammodernamento delle FAL che oggi ha presentato i nuovi autobus. Un rinnovamento del parco gomme che raggiunge i livelli del 50% per far fronte alla crescente domanda da parte dei pendolari, come ha spiegato il presidente delle ferrovie Appolo Lucane, Matteo Colamussi. Abbiamo completato un mese fa il processo anche di rinnovamento di restyling di tutti i treni che avevamo in dotazione all'80%. Per il 2013 sono previsti l'arrivo dei nuovi treni. Un restyling che si allarga anche a materiale rotabile grazie ai fondi inseriti nel piano per il sud, come annunciato l'assessore al trasporto, Guglielmo Minervini. 50 milioni di euro per interventi infrastrutturali e tecnologici che consentiranno un potenziamento enorme dell'offerta di mobilità ferroviaria, di treni, perché consentiranno la doppia direzione. Quindi il cadenzamento, cioè significa che la FAL potrà diventare nelle aree a maggiore domanda, quelle più a ridosso del capoluogo di regione, una vera e propria metropolitana di linea. E il presidente della regione Puglia, Vendola, ha scritto una lettera al ministro delle infrastrutture Corrado Passera per segnalare il suo disappunto sui tagli disposti da Trenitalia sulle linee a lunga percorrenza per la Puglia a partire dal prossimo 12 dicembre, che profilerebbero effetti inaccettabili e stanno generando diffuse e vivaci reazioni sociali. Vendola chiede un intervento del ministro per l'assenza del prodotto Freccia Taranto e per il servizio notturno, che registra una contrazione sulla linea adriatica Lecce-Bari-Roma. Un divieto di sosta da rimuovere e trasformare in postazione carico e scarico merci per decongestionare il traffico della zona. La richiesta arriva dai commercianti di Via Red David. Una pratica avviata nel 2007 dai commercianti di Via Red David è ancora oggi senza risposta. Si tratta della richiesta più che lecita di una postazione per carico e scarico merci nel tratto compreso tra Via Postiglione e Via Maria Cristina di Savoia, punto su cui insistono numerose attività commerciali. Ogni mattina c'è qui il carico e scarico dei nostri fornitori e poi chiaramente per la presenza di molti supermercati ci sono dei grossi camion che arrivano, chiaramente doppia fila, ingorgo, mancata possibilità da parte nostra di caricare i nostri furgoni per poter lavorare. La Polizia Municipale aveva proposto di collocare il carico e scarico prima su Via Maria Cristina di Savoia dove però il parcheggio è a pettine, poi sulla troppo stretta Via Enrico Toti, ipotesi considerate entrambe irricevibili dalla sesta circoscrizione, come conferma il consigliere Silvio Delle Foglie che ha seguito la pratica fino al 2009. Poi nel 2010 la svolta. La Polizia Municipale inserisce nell'elenco dei divieti di sosta inutili e dunque da eliminare proprio quello su Via Red David, ad oggi però non ancora rimosso. I commercianti ora chiedono che si proceda a trasformare il divieto in zona carico e scarico. La cronaca, circa 3.000 sciarpe con noti marchi nazionali ed internazionali contraffatti, sono state sequestrate dai militari della Guardia di Finanza di Bari e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane. La merce era nascosta all'interno di sei bagagli voluminosi nella disponibilità di una cittadina senegalese appena sbarcata nel porto di Bari da una motonave proveniente dalla Grecia. La donna di 43 anni, priva di documentazione, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per contrabbando doganale, introduzione nello stato di marchi contraffatti. Cambiamo argomento. Prima edizione di Comuni Rinnovabili 2011 di Lega Ambiente. La Puglia si conferma all'avanguardia nel campo delle rinnovabili, una spinta ad investire su questo settore che garantisce autonomia energetica e valorizzazione dei territori. Dal produttore al consumatore, non stiamo parlando di cibo ma di energia. Già, perché il futuro della produzione energetica è proprio questo, solarizzazione dei tetti e investimenti in impianti termici, eolici e idroelettrici che garantiscano autonomia energetica. Le cosiddette fonti pulite, vere alternative ai combustibili fossili, una partita che la Puglia sta giocando con numeri che viaggiano ad una velocità impressionante e candida nella nostra regione, tra le prime a livello nazionale per la produzione energetica da fonti rinnovabili. E' la fotografia emersa nel corso della prima edizione di Comuni Rinnovabili Puglia 2011. E se è necessario diffondere una cultura dell'energia pulita come forma di sensibilizzazione tra le famiglie, è anche necessaria una burocrazia meno lenta e farraginosa che aiuti le imprese a investire in questo settore, come ha commentato l'assessore dell'attività produttiva Loredana Capone. Gli investimenti in Puglia, proprio perché c'è molto sole, sono notevolmente diffusi, le pratiche di autorizzazione sono tantissime, ed è per questa ragione che, proprio con riferimento al burden sharing, vista la percentuale di solarizzazione che noi abbiamo già raggiunto, Grazie. 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 Grazie.